Tiro al piccione contro di me. Matteo Renzi punta il dito contro quello che definisce lo sport preferito dai grandi vecchi del suo partito. Il sindaco di Firenze attacca i capi corrente del PD e dice che da loro si sente trattato come un bambino bizzoso cui si promette una caramella se sta buono. Renzi sostiene di ricevere pressioni continue a farsi da parte almeno fino a che non è stato eletto il segretario del partito. Poi si parlerà di candidato premier. Le due cose sono distinte, gli viene ricordato. Massimo D'Alema al TG1 in diretta invita Renzi ad aspettare il suo turno. Aspetti le primarie per la premiership ed intanto ci faccia eleggere il segretario, dice D'Alema. Uno stop ed anche un po' una paternale che serve a blindare il governo Letta dai possibili contraccolpi di Renzi. Ma il rottamatore non sta con le mani in mano e passa il contrattacco con una newsletter dove scrive Il manifesto per un partito PD nuovo è aperto e coraggioso. Abbiamo passato due mesi a parlare di regole. Matteo Scialla ci hai appallato, dice in maniera pop Stefano Fassina alla vigilia della convention di domani. Fare il PD che potrebbe dare voce ad un fronte alternativo al renzismo.